Amici carissimi ben ritrovati in nostra compagnia e ben ritrovati naturalmente in compagnia di Enzo Bussolino che è qui al mio fianco per condurmi all'interno di questo bellissimo showroom che è alle mie spalle che noi ricordiamo. Pastorino corso la mano 48 vi ricordo amici telespettatori la concessionaria con il maggiolino sul tetto benvenuto a voi e un benvenuto a te naturalmente anche Sonia andiamo a vedere le offerte strepitose estive fresche e spumeggianti che abbiamo riservato per tutti quanti voi. E cominciamo dalla piccolina di casa Volkswagen una app deliziosa per Antonio Masi alla cittadina di casa Volkswagen. Piccolina sì ma con quattro posti comodi e confortevoli amici telespettatori vetture disponibili in pronta consegna approfittate del periodo estivo perché abbiamo l'opportunità di vendervi la nuova app a prezzi scontatissimi pensate a partire da 8.900 euro e in più aggiungiamo anche il tasso zero fino a 48 mesi. Appetibili anche le condizioni su Polo? Ovviamente sì e tua con Tekken Sound Pack a partire da 10.900 euro ricordo che qui in corso la mano la Pastorino le vetture sono disponibili e sono in pronta consegna quindi andiamo in vacanza con la nuova Polo e soprattutto iniziamo a pagare da settembre ma in più anche a tasso zero. E che mi dici invece per Golf? Golf l'icona del marchio Volkswagen, l'icona per la concessionaria Pastorino. Volevamo mettere anche la Golf a fianco al Maggiolino ma abbiamo ritenuto opportuno di non farlo e di consegnarla naturalmente ai clienti. Venite a provare la nuova Volkswagen Golf nelle motorizzazioni benzina e turbodiesel. Vi chiedo di venire e chiedeteci le offerte estive che abbiamo riservato a tutti quanti voi. E parliamo anche di monovolume. Qui alla Pastorino siamo tecnicamente specializzati nella vendita dei piccoli SUV e naturalmente dei monovolume. Parliamo di Turan, il nostro cavallo di battaglia 5 e 7 posti. Parliamo di Charan disponibile in pronta consegna a 5 e 7 posti anch'esso nelle motorizzazioni benzina e turbodiesel, cambio manuale o il fantastico DSG a 7 rapporti. E naturalmente non può mancare Tiguan all'appello. Ultima nata di casa Volkswagen, ottimi sono i risultati e finalmente cominciamo a consegnare le vetture che voi avete prenotato. Per tutti coloro che non hanno ancora avuto il piacere di venire a visionare il nuovo monovolume compatto di casa Volkswagen. Venga a chiederci un test drive. Abbiamo la possibilità di farvelo provare direttamente su strada e quindi provare l'emozione di guida del nuovo pianale IMQ e naturalmente tutto quello che possiamo vedere, tutta la nuova Tiguan con adatti cruise control, frontassi, fatigue detection eccetera eccetera eccetera. Sono qui in corso alla mano 48 le vetture disponibili per la prova su strada. Venite a chiederci tutte le caratteristiche tecniche e tutte le novità riservate su questo prodotto. Iniziative commerciali riservate a categorie particolari. Categorie particolari che per ciò che riguarda il mondo Volkswagen vengono chiamate e definite business. Quindi tutti voi, tutti coloro che sono operatori dedicati e quindi possessori di partita IVA, piccole e medie imprese, grandi aziende, taxisti eccetera eccetera eccetera. Abbiamo l'opportunità di avere una persona che è stata formata e quindi ha l'opportunità di potervi offrire le migliori condizioni esistenti in questo momento sul mercato per poter acquistare una nuova Volkswagen. Sconti dedicati, valore aggiunto a Volkswagen Pastorino, test drive dedicati. Vi ricordo la nuova ibrida in forma sportiva, abbiamo Golf GTE e Passat GTE disponibili per una prova su strada e disponibili per l'acquisto e consegna immediata. E ci siamo trasferiti al piano superiore dove naturalmente non abbiamo il tempo purtroppo di mostrarvi le grandi occasioni selezionate, certificate e firmate da Sveltauto che Pastorino vi mette a disposizione. Però insomma qualche chicca la possiamo far vedere. Dunque ricordo che cosa significa essere concessionari da Sveltauto vuol dire che tutte le vetture che potete trovare qui alla concessionaria a Pastorino sono tutte certificate con chilometraggio garantito, selezionate e con un certificato di qualità a livello europeo. Significa che tutte le vetture passano 110 punti di controllo, hanno ricevuto una prova statica e una prova dinamica e poi sono state ricondizionate per ciò che riguarda l'aspetto estetico e rimesso in vendita. Rimesso in vendita a condizioni interessanti, ricordo che la concessionaria Pastorino è stata premiata quale venditrice di autovetture con miglior rapporto qualità-prezzo, quindi assortimento, prezzo, garanzia, tranquillità. Amici degli spettatori, corso alla mano 48, venite a prenotare una prova su strada della vostra nuova vettura d'occasione garantita con certificato da Sveltauto, quindi significa che tutte le vetture che trovate sono garantite per 24 mesi e un'opportunità in più quella di ritirarla con due controlli che potete utilizzare per due anni, chilometraggio certificato e la possibilità di ricevere due manutenzioni comprensive di cambio olio e filtri da spendere presso naturalmente la nostra assistenza. Bene, qualche esempio per voi di usato di qualità garantito da Sveltauto. Entriamo nel dettaglio, una splendida 500L in versione trekking disponibile per voi garantita 24 mesi, Volkswagen Maggiolino disponibile in pronta consegna 1.6 turbodiesel di colore bianco, abbiamo una Golf Variant 1.4 TG alimentata con benzina e metano, pensate amici telespettatori, 25 chilometri con un litro significa che con 15 euro superiamo i 300 chilometri di autonomia, veramente eccezionale. E Golf naturalmente ne abbiamo di tutte le salse, abbiamo delle Volkswagen Polo in allestimento fresh, abbiamo una Volkswagen Golf disponibile versione High Line, quindi la più accessoriata della gamma, una Passat Variant disponibile in pronta consegna 18.000 euro di risparmio rispetto al prezzo di listino, vettura interamente fatturabile e perché no, perché non troviamo solamente prodotto Volkswagen, anche una Hyundai, una Hyundai disponibile in pronta consegna recentissima. Beh, devo dire che non basta un pomeriggio per visitare questo immenso showroom dedicato alle grandi occasioni firmate Pastorino, ce ne sono davvero tante, multimarche di varie tipologie, di tanti prezzi, insomma anche l'auto che non c'è magari. Anche l'auto che non c'è ma soprattutto la serenità e la tranquillità di acquistare un prodotto garantito. Amici telespettatori, vetture nuove disponibili in pronta consegna per poter viaggiare con tranquillità e sicurezza e scegliere la nuova vettura e acquistandola a condizioni veramente particolari. Vetture d'occasione selezionate Pastorino con certificato di garanzia fino a 24 mesi da svelta auto, la possibilità di ricevere un'auto con chilometraggio certificato e spaziare su oltre 200 autovetture d'occasione con certificati di garanzia fino a 36 mesi su tutto il territorio europeo a condizioni d'acquisto veramente incredibili. Amici telespettatori, ascoltate il consiglio di Sonia, dedicate un momentino al vostro tempo libero, venite a scegliere la vostra nuova autovettura, chiedeteci di provare la vostra nuova autovettura anche se d'occasione su strada. Beh io devo dire che ho scelto bene e ho già prenotato la mia prova su strada, che dici? Hai prenotato anche una vacanza al mare naturalmente perché con un piccolo spider abbiamo l'opportunità di poter viaggiare a tetto e a cielo aperto. Amici telespettatori, siamo arrivati in chiusura, un saluto da me personalmente, vi aspetto numerosi qui in concessionaria in corso alla mano 48, questo per dirvi che cosa, che qui in corso alla mano 48 alla Pastorino c'è tutto un mondo di automobili. Grazie Enzo, simpatico e competente come sempre, ringrazio voi per l'ascolto e come sempre lì nella regia.